Dieci anni di musica ad altissimo livello, dieci anni di festa e divertimento nell'area verde di zero spreco. Warehouse at Decibel Festival arriva così alla decima edizione, come sempre con grandi numeri e grandi nomi del panorama nazionale, cantautorale, rap e rock alternative. Tra gli artisti più attesi il prossimo 8 settembre sul palco di San Zeno, lo stato sociale. Nasce da un'intuizione appunto dieci anni fa di raccontare ai giovani, ai cittadini, a persone che arrivano ad Arezzo uno spazio dove sta a esempianti e farlo in questa modalità portando grandi artisti della musica. Nella decima edizione volevamo festeggiarla con uno degli artisti che è stato anche protagonista di bellissime serate negli anni, appunto lo stato sociale e quindi sarà l'ospite principale di questa annata. Accanto a loro artisti anche giovani, emergenti come Drust, come Vipra, un monumento a musica italiana che è Max Casacci de Subsonica, che chiuderà l'evento. Sono stati dieci anni dove la musica ha scandito il tempo della trasformazione di quello che era un impianto dedicato all'incenerimento dei rifiuti, la trasformazione in una centrale di recupero che in questi giorni sta attivando la sua linea di biodigestione per la produzione biometano. L'impianto Aisha da poco è dotato anche di Verde 70, la nuova linea di compostaggio per la produzione di fertilizzante biologico e metano da rifiuto organico, nato per arginare il problema del trasporto dei rifiuti urbani e speciali su gomma con i relativi costi, come spiegato proprio con questi mattoncini. Sono dei camion, sono degli walking floor da 90 metri cubi l'uno, per l'esattezza in questo momento sul tavolino ce ne sono 400, ce ne dovrebbero essere 777 che sono l'equivalente dei rifiuti organici che dovremo esportare verso lì di lontani a caro prezzo, se non avessimo l'impianto Verde 70, che è quell'impianto che è composta dal rifiuto solido urbano e da cui si estrarrà il biometano che potrà essere anche erogato attraverso una zero spreco card.